ah ciao sì poi mi sono dimenticato di avvisarti scusami comunque va una bomba spaventoso non butta un seme qualcosa di veramente assurdo io avevo da parte 1 2 kg di mangime che comunque era stato usato e tutto l'ho buttato dentro ma ora con il recuperato tantissimo ma veramente tanto la vera signor enzo mi scusi che non mi sono fatto sentire mi è arrivata stamattina ora l'ho provata complimenti ha è fatto veramente benissimo sia per quanto riguarda i cartellini che per i canari e la stagliola veramente bella la ringrazio moltissimo è stato gentilissimo anche per come ne l'ha chiusa complimenti veramente ok perfetto guarda ti ringrazio ma a sto punto sai cosa faccio ogni tot li don aspirata e l'inclino che così tra i due filtri e c'è la fessurina e cade giù e sono a posto ti ho chiesto se devo smontarlo perché perché ho visto che ci sono due reti tutto qua ottimo ti ringrazio comunque guarda sono molto soddisfatto il prodotto anche se devo passare due volte non mi cambia niente è comunque a livello tra virgolette di spreco di mangime veramente si riduce al minimo buonasera signor enzo debora allora ieri ricevuto il soffia semi e l'ho provato oggi ora di cosa pranzo quindi è fantastico pulisce benissimo è bellissimo se vede proprio che un prodotto di qualità veramente soddisfatta complimenti enzo ottimo prodotto ciao allora il soffia semi è arrivato è arrivato oggi l'ho già provato tutto a posto funziona molto bene complimenti prodotto molto valido grazie mille ancora alla prossima ciao buona serata ciao